Prosegue il cammino di Cateno De Luca, il sindaco di Messina, adesso candidato alla presidenza della regione Sicilia per le prossime elezioni regionali di ottobre. Ha iniziato questo itinerario in bici e a piedi mercoledì 20 luglio a Fiume di Nisi e terminerà venerdì 29 luglio con l'ultimo step a Palermo. Nella giornata di ieri, domenica 24 luglio, De Luca ha fatto tappa a Cavodorlando, accolto da una folla di sostenitori a cui ha presentato il quinto punto del suo programma di governo. Stiamo lanciando un messaggio ben chiaro e forte al territorio ma a tutti i siciliani. L'impresa che ci aspetta, il progetto De Luca, sindaco di Sicilia, è un progetto ambizioso, faticoso, ci vuole un fisico bestiale e voglio semplicemente mettere in evidenza che nonostante i miei 50 anni portali male, ancora mi sento all'altezza di prendermi questo peso anche perché abbiamo dimostrato già che dove abbiamo avuto l'onore e l'onere di essere il punto di riferimento delle comunità abbiamo dato ampia soddisfazione e dimostrazione che l'amministrazione la conosciamo bene e soprattutto quello che il nostro ruolo lo sappiamo svolgere attettanto bene. Noi ogni giorno decliniamo i comandamenti programmatici, oggi siamo al quinto comandamento programmatico che tra poco annunceremo e il tema di oggi sono le infrastrutture e le incompiute che caratterizzano la Sicilia e soprattutto anche l'imbecillità politico-amministrativa di spendere le risorse e non farseli riprendere dallo Stato, cosa che ciclicamente capita. Ha accennato al punto nascita, questa è una promessa per il territorio orlandino e Denebrodi? Ma è scappata per caso perché qua avete un problema di punto nascita? Ah sì? E dove? A Sant'Agata per caso? Non mi dite! Ma è stata una coincidenza intanto, è ovvio che conosco questo problema come tanti altri e fa parte nel nostro programma di una sanità il più possibile vicino al cittadino e quindi lontana dal business ed è ovvio che per poter rompere anche certi affari nella sanità in Sicilia dove guarda caso in molti territori viene ammazzato il pubblico e poi nello stesso territorio guarda caso arriva il privato. Due sono le cose, come è possibile nello stesso territorio per il pubblico non è economicamente vantaggioso garantire il servizio e poi arriva il privato e fa business? C'è qualcosa che non va in questi calcoli.